Grazie alle ultime modifiche apportate a Google Classroom è ancora più facile partecipare alle videoconferenze fatte dagli insegnanti. Per partecipare basta collegarci ed entrare nella classe virtuale e cliccare sopra il link delle videoconferenze. Le videoconferenze verranno sempre fatte a questo link. Il collegamento lo si può trovare anche qui sui lavori del corso. Segnalo che è possibile entrare nella videoconferenza solamente se è già presente in collegamento un insegnante. Se l'insegnante non è presente all'interno della videoconferenza ecco quello che succede. L'accesso viene negato e non si può partecipare. Se invece un insegnante entra nella videoconferenza e in pratica la avvia dopo di lui gli studenti possono entrare e partecipare. Al termine della videoconferenza gli studenti sono tenuti ad uscire e l'insegnante a concludere la videochiamata.